Ormai è nota come la sindrome di Messina, il riferimento non eccetto alla città dello stretto, quanto a quel guru della comunicazione americano che venne chiamato in Italia e in Inghilterra per rovesciare esiti elettorali e che se ne tornò in patria con molti soldi, ma le pive nel sacco. Siamo davanti a un riflesso condizionato, istintivo, leader di partito, premier di governo, manager di questo o quel gruppo industriale o finanziario. Se qualcosa non va, la prima decisione è cambiare il capo della comunicazione. Un vero rito voodoo per rovesciare il destino, per trovare una sostanza alchemica che trasformi la pietra in oro. In realtà la comunicazione non è un accessorio o un servizio, è la materia prima di cui sono costituiti i progetti politici, le strategie amministrative, i piani di prodotti o servizi. Si tratta di costruire faticosamente relazioni con la propria base di riferimento, utenti, clienti, militanti e con loro dare corpo a community di reciproco ascolto per vitalizzare progetti di elaborazione e innovazione. Non si può certo trovare la scorciatoia, cambiare lo slogan o l'aggettivo. Su questo si misura la maturità di una classe dirigente, innanzitutto in termini politici. A presto.